Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con l'esercito in 100 secondi. Tripletta di esercitazioni per alcuni reparti dell'esercito italiano. Concluso l'addestramento Air Mobile Permanent Training, all'attività diretta dalla Brigata Aeromobile Friuli, hanno partecipato circa 450 tra ufficiali e sotto ufficiali graduati di truppa. Scopo dell'addestramento è stato quello di pianificare, organizzare e coadiuvare attività addestrative, volte ad acquisire e mantenere le capacità operative tipiche delle unità aeromobili fino a livello task group. 22 gli elicotteri complessivamente impiegati, tra i quali mangusta, elicotteri da trasporto e altre tipologie. Un'esercitazione volta a verificare e validare i task group in appuntamento e di prossimo impiego nei teatri operativi. Terminata l'esercitazione Interagency Effort 2017 presso il poligono sperimentale di Santa Severa. Il settimo reggimento difesa NBC Cremona è stato protagonista di attività finalizzate a fronteggiare emergenze contro attacchi di natura chimico, biologico, radiologico e nucleare. Simulata la scoperta di un laboratorio clandestino con attrezzature per la produzione di aggressivi biologici dove il personale contaminato è stato poi trasportato su una speciale barella all'ospedale Spallanzani di Roma con un elicottero AB 412 dell'esercito. All'esercitazione hanno preso parte anche alcuni rappresentanti dei vigili del fuoco, della sanità marittima dell'Ares 118 della Croce Rossa italiana. E si è conclusa anche l'attività Freezone 1 nel poligono del Monte Bivera, tra la quale hanno preso parte i reparti dell'esercito italiano con unità specialistiche del V, VII e VIII reggimento della Brigata Iulia, del III reggimento della Taurinense, del 183 reggimento della Folgore e del XIII reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia. Condotte pattuglie continuative su un percorso di oltre 40 km ed esercizi di tiro sulle lunghe distanze con fucili di precisione, anche fino a 1160 metri. Il tutto con procedure attuate ad alta quota con condizioni climatiche particolarmente avverse. Ed anche per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo, grazie e buon weekend.